Siamo alla conferenza internazionale 20 anni da Rio 92, siamo in compagnia di Mararon Cuzzi, assessore all'ambiente della provincia di Ravenna. Ecco, vogliamo sapere appunto una sua battuta, una sua impressione su questo evento, su questa prima parte, perché poi ci sarà anche una sessione pomeridiana. Sì, direi che questa prima parte ho acquisito questa mattina, l'ho trovata veramente molto interessante e di altissimo livello. Ci sono moltissimi contributi da parte di esperti stranieri sui temi più vari e tutti quanti però, che bene o male si riconducono al grande tema della sostenibilità e al tentativo di rispondere a questa domanda, se siamo più sostenibili 20 anni dopo Rio 92. In apertura la mia ipotesi ottimistica era quella che potessimo dire di essere più sostenibili perché effettivamente da Rio 92 la consapevolezza è aumentata molto e quindi le persone sono molto più attente, così come gli scienziati, insomma si sono sviluppati in questi anni moltissime, si è sviluppata moltissimo questa tematica. I dati però illustrati questa mattina non ci dimostrano questo, la scienza dice che anche forse a causa della continua crescita della popolazione e dello sviluppo dei paesi emergenti, la sostenibilità è ancora un traguardo molto molto lontano, tant'è che se continuiamo così a breve serviranno due pianeti interi per riuscire a soddisfare i nostri bisogni e il pianeta sicuramente non riuscirà a reggere questi ritmi. Quindi speriamo che la consapevolezza sia il primo passo per trovarci magari un po' prima che fra 20 anni, magari fra 10 anni per poter dire che abbiamo iniziato a invertire la tendenza in concreto. Grazie Marlon Cuzzi, fare i conti con l'ambiente.